Tutto è una serie di importanti iniziative, la serata della Ciarastea con l'esibizione del coro Fiori de Succa diretto da Stefano Patron che si esibirà fra poco e in concomitanza con questa bella serata ci sarà l'apertura ufficiale della quarta edizione di Presepi d'Arte e quest'anno è un'edizione per me straordinaria perché abbiamo 50 Presepi quindi abbiamo battuto la presenza dei Presepi passati che vuol dire che c'è stato anche un atto d'amicizia di molte persone che hanno accettato spesso anche l'invito all'ultimo momento per portare